Tardano ad iniziare i lavori della ciclabile di via Santa Caterina e secondo il Comune di Arco parte della responsabilità sarebbe da imputare al servizio Bacini-Montani. Questo è quanto sostenuto dal Vice Sindaco Stefano Bresciani. Il problema riguarderebbe la realizzazione di una piazzola per la fermata degli autobus. L'area di sosta, secondo il progetto, dovrebbe essere costruita in una rientranza rispetto alla carreggiata per garantire maggiore sicurezza nella salita e discesa dal mezzo pubblico e andrebbe a coprire una parte di torrente. Questo fatto è stato valutato negativamente dai Bacini-Montani che quindi costringono la Giunta a trovare rapidamente una soluzione capace di accontentare sia le necessità di messa in sicurezza della fermata, antistante alcuni spazi commerciali piuttosto frequentati, sia la tutela del torrente ivi presente. Il problema che ci è stato riscontrato, sottolinea Bresciani, riguarda la collocazione della fermata degli autobus, poco usata ma strategica nella sua posizione. È quella vicino al palatenda e che oggi è in condizioni precarie per chi la utilizza per andare a fare la spesa nei vicini supermercati. Tra le principali criticità per la realizzazione di questa ciclabile, che collegherà Arco e Riva sul principale asse viario tra i due comuni, Bresciani ricorda il problema dell'esproprio dei terreni privati che ha interessato alcune particelle del centro commerciale. Mentre il cantiere per il tratto ciclabile rivano è in continuo movimento, quello Arcense è in attesa di risolvere gli ultimi problemi burocratici.